Subito vado a salutare e a ringraziare alcuni rappresentanti della Breast Unit di Latina. Saluto e ringrazio il professor Fabio Ricci, direttore della Breast Unit di Latina. Buongiorno professor Ricci. Saluto e ringrazio la dottoressa Genoveva Boboc, direttrice della radioterapia dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. E saluto e ringrazio anche il dottor Luigi Rossi, responsabile dell'unità operativa semplice Oncologia Università La Sapienza del Polo Dono Svizzero di Formia. Ho letto tutto, dottore, così? Tutto corretto, grazie, buongiorno. Non faccio errori, preferisco leggere. Sono senza voce, quindi supportatemi con i vostri pensieri di luce, come sempre. Speriamo di portare un po' di allegria e di riflessione anche a tutti voi che ci seguite da casa. Cominciamo subito con il professor Ricci, ancora una bella spiegazione per questa Breast Unit che recentemente, eccola qua, dice ma ancora hai la Breast Unit Silvia? Sì, perché è stato, è ricevuto anche un bel riconoscimento la Breast Unit di Latina. Eccolo qua, io ce l'ho, il premio Fontane di Roma, il quarantesimo premio internazionale e quindi è anche una bella ventata. Dice la pacca sulla spalla non risolve i problemi magari che si affrontano nel quotidiano, però i riconoscimenti aiutano, professor Ricci. Fanno bene, significa che si lavora tanto e qualcuno se ne accorge. Sì, abbiamo avuto questo riconoscimento sia a me che alla direttrice generale Silvia Cavalli e alla quarantesima edizione, è un premio internazionale, quindi è un omaggio all'attività che fa la Breast Unit e l'ASL in generale per i nostri pazienti. Quindi sono grato all'organizzazione, alla giuria che ci ha votato, è stato sicuramente un ottimo risultato. Noi parliamo della Breast Unit non tanto per dire che siete bravi, questo lo sappiamo già a livello internazionale, anche europeo con vari articoli comparsi in varie testate che viaggiano nel circuito web internazionale. Lo facciamo perché tante donne magari a casa si trovano in questo momento proprio ad affrontare una situazione di salute complicata, difficile, magari hanno appena scoperto di avere una malattia oncologica e quindi siamo qui per dire che esiste un pool di esperti in tutta Italia. Chiaramente noi oggi portiamo l'esempio di Latina ma abbiamo questi centri in quasi tutti gli ospedali di Italia che prende in carico la donna e la accompagna in questo percorso di rinascita che è complicato però in qualche modo è attutito dalla professionalità dei sanitari, degli infermieri che lavorano in questi team ma anche dalla dolcezza con cui c'è l'approccio medico scientifico per aiutare queste signore. E' esattamente così, la Breast Unit è un pool multidisciplinare che ha il compito essenziale della presa in carico della paziente. La presa in carico significa che la paziente dal momento della diagnosi in tutto il suo percorso chirurgico, radioterapico, oncologico è seguita da questo pool di specialisti. Le caratteristiche di una Breast Unit sono distribuite sul territorio per popolazione, noi nel Lazio ne abbiamo 15, una per provincia e 11-12 a Roma. Questa è la caratteristica essenziale di una Breast Unit perché nel momento in cui le donne affette dal tumore al seno vengono colpite dal tumore, la presa in carico della Breast Unit garantisce tutta una serie di vantaggi e non ultimo, ma è la cosa principale, la sopravvivenza migliorata del 20%. Quindi capite bene che affidarsi una Breast Unit a questo pool di medici ultra specializzati è un vantaggio a favore delle donne. Quindi l'appello da lanciare è proprio questo, rivolgetevi alla Breast Unit. Entriamo proprio in uno dei percorsi che spaventa un po' tanto le donne, dottoressa Bobo, che è quello della radioterapia. È vero anche che quando si arriva alla radioterapia si sono fatti un po' i due step più complicati, quello chirurgico e quello magari per alcune donne anche chemioterapico. Arrivare con serenità alla radioterapia cosa significa? Come si fa, dottoressa? Si fa soprattutto con questo percorso multidisciplinare perché la paziente arriva dopo che ovviamente noi abbiamo discusso nella riunione multidisciplinare, lei è stata informata e per l'accoglienza che noi facciamo alle paziente. Perché penso che lì dove noi possiamo incidere tantissimo, a parte siamo diventate sempre più bravi come specialisti, sempre più bravi come medici, come tecnologia, però lavorare sullo stato emotivo che una diagnosi di questa dimensione può portare nell'universo femminile con tutte le preoccupazioni che scatenano sia sull'organizzare la quotidianità ma sia delle cure che dovrà affrontare. E lì sta l'umanizzazione delle cure e qui ringrazio tantissimo la nostra direttrice generale che mette molto l'accento. E' una donna quindi magari ha anche una sensibilità maggiore per questa tematica. Senza nulla togliere ai dirigenti uomini, per carità. Però è un fattore molto importante perché io dico sempre, le persone, i pazienti sono parte attiva del loro processo di guarigione, non siamo solo noi, sono anche loro, con la loro determinazione, con la loro serenità, con il loro ottimismo. Perché se mettono in moto, se noi come specialisti, e questo cerchiamo di fare in una breast unit, diminuire più possibile con gli stati di ansia, di nervosismo o di tristezza e depressione e portarli dalla nostra parte, vuol dire dalla loro parte, rendersi conto che curarsi di un tumore, in questo caso di un tumore al seno, è possibile e avere progetti di vita, guardare oltre lo stacolo, guardare oltre, di continuare i progetti di vita come prima di questa diagnosi. Perché si acquista, per questo è importante la catena di multidisciplinarietà, perché si acquista una consapevolezza maggiore, si diminuisce il livello, si acquistano le informazioni quando la persona è informata, sa di non essere lasciata da sola in un percorso. Sì, si supera questo senso di dolore, di isolamento. Esatto. Dottor Rossi, cos'è l'oncologia territoriale universitaria? Spesso si usa questo termine magari a casa, si fa fatica a comprendere di cosa stiamo parlando, perché le università sono poi coinvolte in questi progetti. Allora, come dice il nome stesso, l'oncologia territoriale ha lo scopo di portare sul territorio tutte quante le cure necessarie ai pazienti oncologici. Si chiama territoriale in quanto la nostra UOC di oncologia territoriale è distinta in tre differenzi centri che sono Aprilia, Terracina e Formia. Ognuno di questi centri ha il suo bacino di interesse, quindi di cura dei pazienti della zona, quindi del territorio e ognuno di questi tre centri ha un responsabile. Aprilia è responsabile del dottor Giampaolo Spinelli, a Terracina dottoressa Maria Colonna e a Formia sono io sottoscritto. E questi tre centri sono coordinati dal direttore della UOC universitaria, che è il professor Daniele Santini, che è un primario professore ordinario dell'Università Sapienza di Roma. Ed è la collaborazione fra la Sapienza e la nostra ASL che ha permesso l'istituzione di questa oncologia territoriale. In particolar modo l'ha fortemente voluta la nostra direttrice generale, l'ottoressa Silvia Cavalli, proprio per il discorso che facevano prima i colleghi, cioè il discorso, il concetto di umanizzare le cure. Umanizzare le cure vuol dire permettere al paziente di potersi curare rimanendo nella sua zona di appartenenza, nella città, nella provincia dove abita. Questo è lo scopo di un'oncologia territoriale, cioè portare questi farmaci sul territorio. È stata fortemente voluta la dottoressa Silvia Cavalli in accordo con l'Università e riguarda, in questo caso, pazienti oncologici, che sono pazienti, come sappiamo, estremamente delicati. E infatti la nostra UOC Oncologia Territoriale è inserita all'interno del Dipartimento di Fragilità, non a caso, perché noi ci occupiamo di pazienti chiaramente fragili, che sono i pazienti oncologici. Questi tre centri sono dislocati in tre punti diversi della provincia. Latina è un caso a parte, in quanto i pazienti di Latina vengono curati e seguiti presso l'ospedale Santa Maria Goretti. Ma questi tre centri, pur essendo dislocati sul territorio, vengono perfettamente coordinati dal nostro direttore, che è il professore Daniele Santini, ordinario dell'Università della Sapienza, e permette quindi di avere una linea comune fra tutti i tre centri, che sono quindi strettamente collegati fra di loro con i loro tre responsabili. E per quanto riguarda il percorso della Breast Unit, sono tutti quanti collegati al professor Ricci, qui presente, che coordinando la Breast Unit, ovviamente, coordina anche questi tre centri. La possibilità di distribuire i farmaci in questo ampio territorio è un altro merito della nostra ASLA, in quanto abbiamo a disposizione tre navette che partono da Latina, in quanto i farmaci vengono preparati, sto parlando di chemioterapici, ma anche di anticorpi, di immunoterapici, farmaci di nuova generazione a altissimo costo, vengono preparati nella sede centrale di Latina, e poi ci sono tre navette che portano i farmaci, una ad Aprilia, una a Terracina e una a Formia. La navetta destinata a Formia è una recente istituzione, in quanto prima c'era una navetta per il nord, diciamo così, che andava ad Aprilia, e una per il sud, che andava a Terracina e poi a Formia. Questo comportava però che i pazienti oncologici di Formia cominciavano le terapie in tarda mattinata, perché ovviamente la navetta faceva tappa prima a Terracina, andavano scaricati Formia. Cioè i tempi di attesa erano sempre più lunghi. Esatto. Recentemente, grazie all'interesse delle istituzioni locali, in particolar modo del sindaco Taddeo, e grazie sempre alla direttrice Silvia Cavalli, è stata istituita una terza navetta esclusiva per Formia, che parte da Latina, non fa tappa a Terracina, ma arriva direttamente a Formia. E questo permette ai pazienti oncologici di cominciare le terapie a inizio mattinata, mentre invece cominciare la terapia in tarda mattinata, anche il primo pomeriggio. Eh, poverini, poi i problemi che accompagna le familiari, perché spesso ci si pensa poco a questo, invece va accolta tutta la famiglia, quando c'è un paziente oncologico. Professor Ricci, prendere in carico una donna nella breast unit, cosa significa per lei? Significa che voi diventate in qualche modo una seconda famiglia in quel periodo? Assolutamente sì, come diceva la dottoressa Bobbo, che noi tendiamo ad integrare i nostri pazienti. Le nostre pazienti vengono accolte, vengono ascoltate, e chiaramente non ne sminuite nei loro timori, nelle loro paure, perché è giusto che le pazienti si rendano conto della malattia, ma noi le accogliamo facendo in modo che diventano loro stesse parti integranti della breast unit. Noi abbiamo proprio un'organizzazione che tende a questo, una case manager Marcella Scambari, il nostro coordinatore evangelista Fusco, degli infermieri estremamente preparati, perché non ci dimentichiamo che l'equip è fatta anche da medici e infermieri altamente qualificati, e questo è un grande vantaggio per i pazienti, perché diventano la prima interfaccia con le pazienti stesse, con le loro esigenti, che molto spesso le trasmetto agli infermieri prima di trasmetterla ai medici. E questa è una cosa bellissima. Entrando nello specifico, dottoressa Boboc, ci sono due acceleratori lineari all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A cosa servono? Perché sono così importanti per la radioterapia? Sono il nostro strumento. Come per il chirurgo non avere la sala operatoria, non può operare anche per noi acceleratori lineari, ma sono importantissimi soprattutto perché con questo progresso tecnologico che negli ultimi 20-25 anni è entrato in radioterapia, i macchinari che abbiamo sono molto evoluti, usiamo tecniche molto evolute, siamo come i sarti, riusciamo a conformare il fascicolo di... Sul tumore, su quello che vogliamo irradiare risparmiando tanto i tessuti sani. Questo ci ha permesso il progresso tecnologico, ci ha permesso di essere più accurati, di modulare questo fascicolo di raggi, dare di più dove serve, dare di meno dove non serve per avere meno effetti collaterali e più efficacia terapeutica. Quindi questo ci permette, nello specifico per il tumore del seno, di implementare delle tecniche, pensate che 10 anni fa... Ecco, pensiamo alla vita di una donna 10-20 anni fa e oggi che si trova ad affrontare il percorso radioterapico. Quanto è cambiata la scienza in questi 20 anni? Intanto è cambiato come approccio. Oggi la donna è accompagnata e non si deve inventare ogni volta davanti a uno specialista. Sa già quello che deve fare perché noi come Breast Unit abbiamo già un percorso tracciato. Poi in radioterapia è cambiato anche dalla presa in carica del paziente, dalle visite in ambulatorio, del modulo in cui si fa la simulazione, quindi quella fase di preparazione per la radioterapia. e non per ultimo le terapie stesse. Una volta si facevano sei settimane di terapia, dal lunedì al venerdì, sabato e domenica escluso. Oggi si possono erogare in tre settimane la terapia con la stessa efficacia e effetti collaterali ancora di più diminuiti. Quindi abbiamo un'efficacia a parità di una durata di trattamento più che dimezzata. Dottor Rossi, lei parlava di quello che ha il contributo delle università per le Breast Unit, ma in generale per tutti gli ospedali. Avere comunque un'università che entra all'interno di questo sistema significa portare anche farmaci nuovi, ricerca nuova, subito capire se ci sono dei prodotti all'avanguardia. Questo fa una bella differenza. C'è uno stretto collegamento tra ricerca e poi il medico che deve concretamente operare. C'è il ricercatore subito a stretto contatto con i sanitari. Esatto. I benefici dell'università si erano già visti negli anni precedenti perché l'università si è insediata nel Polo Pontino già da anni, prima a Latina, poi a Terracina e ad Aprilia. non era ancora arrivata giù a Formia Gaeta. Adesso invece con questo accordo, con questa suddivisione in tre unità della UOC, l'università è arrivata anche a Formia Gaeta. E l'importanza dell'università è evidente sotto tanti punti di vista. Il principale è quello che diceva lei, c'è la possibilità di accedere a nuove cure e a nuovi farmaci. Questo perché i farmaci di nuova generazione, anticorpi, immunoterapici, farmaci biologici, sono estremamente costosi. Non tutti i centri in Italia, pur avendo un'oncologia, possono accedere in questi farmaci. C'è sempre una selezione, si tende a centralizzare le cure in alcuni centri. Bene, dove c'è l'università? Automaticamente ci sono tutti i nuovi farmaci. Un qualunque centro oncologico che sia assegnato all'Università di Salienza di Roma automaticamente ha la disponibilità di tutti i nuovi farmaci di nuova generazione, senza doversi spostare. Quindi l'arrivo dell'Università a Formia Gaeta ha permesso ai pazienti oncologici di questa zona, della nostra zona, di poter accedere a questi farmaci senza doversi spostare in altre location. L'Università porta ricerca, porta docenza, insegnamento. L'arrivo dell'Università permette ai medici di fare docenza e insegnamento sia agli studenti di medicina, sia agli specializzanti che in futuro saranno oncologi. Quindi la docenza, l'insegnamento, i fondi, l'Università raccoglie fondi apposta per poter accedere a nuovi farmaci e poter aprire dei protocolli di ricerca con nuovi farmaci sperimentali, senza doversi spostare in centri come Roma. Quindi l'Università porta tutta una serie di benefici e l'accordo fra clinica e ricerca è sempre fondamentale, è alla base della medicina in generale e soprattutto in particolar modo dell'oncologia. Questa ramificazione consente chiaramente di evitare questi viaggi della speranza lunghi, difficili, dolorosi, complicati perché poi ci rimette tutta la famiglia che deve comunque spostarsi da un centro all'altro quando poi specifichiamo che i protocolli sono quelli quindi non è che andare magari e migrare in un centro della capitale possa in qualche modo garantire una maggiore qualità dell'assistenza perché sono tutti bravissimi i medici. Professor Ricci parliamo un po' di prevenzione, il tumore della mammella è un po' subdolo, non dà segnali, cioè magari si avverte quando c'è questo nodulo ma non sempre l'autopalpazione, cosa ne pensa lei? Allora la prevenzione è uno dei pilastri fondamentali per sconfiggere il tumore al seno e credo che anche qui siamo molto avanti, cioè bisogna affidarsi a quelli che si chiamano percorsi istituzionali, io non mi stancherò mai di ripetere che esistono i cosiddetti screening le donne dai 50 ai 74 anni ogni due anni vengono chiamati per eseguire la mammografia questa è una mammografia molto sofisticata perché è una mammografia che viene letta a double blind cioè a doppio cieco, cioè due radiologi leggono questa mammografia se non c'è concordanza esiste un terzo radiologo che interviene e c'è anche un cosiddetto secondo livello cioè nel momento in cui i nostri radiologi che sono estremamente specializzati nel settore per quello io dico che bisogna seguire i percorsi istituzionali perché anche la quantità fa qualità i nostri radiologi leggono quasi 20.000 mammografie l'anno quindi acquistano quella che si chiama tecnicamente l'expertise e quindi assolutamente sì Però, professore, i dati ci dicono che purtroppo il tumore della mammella sta colpendo anche delle fasce di età più giovani in quei casi non è prevista la prevenzione che rientra nel programma nel protocollo gratuito delle ASLE in quei casi cosa si suggerisce? Almeno un'ecografia? Allora, questa è una bellissima domanda allora anche lì cerchiamo di coprire la fascia di popolazione però cerchiamo di dare un corretto inquadramento del problema cioè il tumore al seno colpisce prevalentemente le donne sopra i 50 anni sotto i 50 anni è vero come dice lei il tumore negli ultimi 20 anni si è abbassato come fascia di età quindi la fascia di età intorno a un 15-20% di donne possono essere colpite al di sotto dei 50 anni quindi donne e giovani al di sotto di questa fascia di età non è previsto lo screening perché non è previsto lo screening? perché c'è un rapporto molto legato alla quantità cioè se noi non raggiungiamo con la fascia di screening cioè dove le donne vengono maggiormente colpite dal tumore o almeno un 60% di adesione alla chiamata allo screening non si può aumentare la fascia perché chiaramente dicono se c'è più frequenza in quella fascia di età noi dobbiamo incrementare la possibilità di fare diagnosi in questa fascia di età e questo è appunto l'appello se lei pensa che in provincia di Latina abbiamo una adesione che arriva quasi al 40% cioè un 60% delle donne non rispondono alla chiamata della ASL questo è fondamentale perché il messaggio che deve passare è che devono rispondere a questa chiamata se le donne sono migliori rispetto alle strutture private ma diciamo che è maggiore l'espertise al di là del fatto dei macchinari cioè la donna viene presa in carico totalmente se la donna dopo in un secondo livello ha bisogno di un'ecografia viene fatta in automatico se ha bisogno dell'atomosintesi viene fatta in automatico se ha bisogno della risonanza professore perché secondo lei non rispondono le donne come dovrebbero? probabilmente dovremmo anche noi fare comunicazione come stiamo facendo oggi probabilmente la responsabilità sarà anche nostra che non riusciamo a comunicare questo vantaggio io credo che il compito fondamentale sia anche di noi medici e dei medici di famiglia perché io dico che i medici di famiglia sono un po' il difensore civico delle loro donne le devono indirizzare a queste strutture proprio perché è un vantaggio per le donne stesse e guardate che dove c'è lo screening che funziona si abbattono anche le disuguaglianze sociali perché è stato dimostrato da degli studi fatti a Firenze che dove c'è lo screening e le donne aderiscono allo screening c'è un incremento della sopravvivenza del 15% quindi il messaggio è fondamentale nelle donne sotto lo screening noi abbiamo che a 40 anni esistono gli ambulatori come esiste nella breast unit di senologia basta una ricetta rosa dove il medico curante scrive visita chirurgica senologica vengono visti da me e dai miei collaboratori e entrano automaticamente se hanno dei problemi nel percorso stabilito dalla breast unità gratuito dottoressa Boboc abbiamo alle vostre spalle una scuola di danza vado un po' fuori dal discorso della radioterapia però come medico quanto è importante divertirsi il tono dell'umore è sempre alto il tono emozionale è alto ballare, giocare, ridere, scherzare fare attività fisica, stare all'aperto quanto fa la differenza poi in un percorso anche di radioterapia? tantissimo tantissimo e proprio perché come dicevo prima le persone sono parte attiva del loro processo di guarigione se mettono in campo attività che tira fuori l'ottimismo buon umore quindi una produzione di serotonina e endorfine ovviamente predispongono anche il sistema immunitario anche l'organismo stesso prima di tutto di abbassare questo livello di ansia, nervosismo, tristezza o depressione quindi tutti stati d'animo sono nocivi sì e comunque in qualche modo incidono con l'efficacia il farmaco più tossico è comunque la depressione in questi casi assolutamente quindi stimolando l'immunità stimolando la creatività ovviamente che abbiamo degli aliati fortissimi per portare a termine un progetto un progetto di cura un progetto di vita un progetto di speranza perché è al di là solo di curarsi e acquisire una consapevolezza maggiore dare maggior valore alla vita trovare motivazione per portare a casa il risultato e si può voglio fare un esperimento tra gli amici ballerini che ho qua vorrei che alzassero le mani quelli che hanno avuto in famiglia un'esperienza di tumore al seno con qualche familiare qualcuno qualcuno di voi ha avuto questa esperienza in famiglia su 15 persone ne abbiamo 3 3 persone non è poco non è assolutamente poco è un tumore che sta aumentando quello che si chiama tecnicamente incidenza cioè il numero di nuovi casi in un anno nel 2022 sono stati stimati in Italia circa 60.000 nuovi casi quindi è un tumore in crescita e come diceva lei si sta abbassando anche un po' l'età in cui queste donne vengono colpite quindi abbiamo appunto quest'arma abbiamo la prevenzione abbiamo la breast unit nel momento in cui le donne vengono colpite dal tumore una di voi tre ha voglia di raccontarci la storia la sua storia con prego ci dovrebbe essere il microfono è già acceso eccolo buongiorno buongiorno è Giuliana Giuliana eccoci la storia di mia madre mamma quindi quanti anni fa ma lei aveva 50 anni non c'è più ecco è stata operata dal seno dal seno e ai polmoni i polmoni non c'è più io a 40 ho avuto l'intervento al seno però diciamo è stata una cosa benigna quanti anni in che anni più o meno mamma si è ammalata? mia mamma si è ammalata a 45 46 anni più o meno quanti anni si è iniziato che anni erano 80 90 si adesso lei tanti anni no prima dell'80 prima dell'80 ecco prima dell'80 lei gli hanno tolto proprio tutto il seno si e ha avuto un carcinoma e poi e poi è arrivato il peggio il peggio si però Giuliana no 14 anni ecco lei è andata via a 64 ecco quindi è stato un percorso anche di dolore però poi dopo quando c'è stato questo ha fatto la chemio per il polmone non per il seno Giuliana poi dopo lei quando lo ha scoperto di non stare bene sì io facendo la doccia ho sentito un notulino al seno andai dal dottore all'ospedale di Latina mi dissero di siringarlo perché era un liquido sì però mi hanno detto meglio toglierlo perché per sicurezza per sicurezza magari per la familiarità sì perché se no ogni mese dovevo andare a togliere con la siringa invece io lavoravo una ditta farmaceutica avevo dei colleghi scusa delle emozioni no no va bene colleghi dottori e mi hanno indicato all'ospedale di Pomezia sì Sant'Anna mi ricordo e lì mi tolsero queste due cisti che avevo al seno però erano cisti non era no no fortunatamente no perché l'abbiamo presa in tempo però io ogni due anni facevo questo screening diceva il dottore ecco abbiamo vari spunti di riflessione professor Ricci intanto la storia della mamma di Giuliana dolorosissima però in qualche modo il sacrificio di quelle donne e lo studio e la ricerca che c'è stata negli anni successivi ha aiutato oggi ad intervenire in una maniera completamente diversa e anche in questo caso chi ha familiarità non può fare ogni due anni lo screening ma che sappia io almeno per la mia esperienza personale ogni anno vedi è cambiato tutto l'approccio vero? assolutamente sì adesso con l'esperienza forse è accaduto prima un fatto del genere quale sarebbe il protocollo oggi? l'esperienza che riportava la signora è chiaramente potremmo definirla quasi pre-storia ok l'evoluzione nella chirurgia è cambiata è cambiato totalmente l'approccio adesso noi non opereremo più una persona portandola al tavolo operatorio senza una diagnosi di certezza quindi abbiamo tutti gli strumenti per fare una diagnosi iniziale e quindi agire già sulla diagnosi fatta stabilita e quindi stabilire il protocollo adatto per quella signora un tempo c'era un paradigma diverso Veronesi lo chiamava il massimo tollerabile cioè si pensava che togliendo più cose e togliendo di più il tumore fosse più facilmente guaribile per alcuni forse però il tumore della mammella mi corregga è sistemico quindi il problema non è tanto sì però è vero che prima di diventare sistemico è locale parte sempre da un problema locale se no altrimenti non opereremo ma è proprio da questo concetto che è nato il secondo paradigma cioè dal massimo tollerabile al minimo efficace cioè noi adesso rispetto a prima conserviamo nel 85-90% dei casi la mammella e questa è stata una grande rivoluzione e la donna è tutto è stata una profonda rivoluzione culturale e questo devo dire è merito degli italiani perché siamo stati tra i primi nel mondo proprio ad avere questo tipo di approccio grazie anche alla spinta delle donne perché le donne ci hanno chiesto di conservare questo seno perché sappiamo benissimo quanto sia importante per la donna il seno sentiamo l'altra signora se ha voglia di raccontarsi la sua esperienza sì la mia è un'esperienza come si chiama loredana loredana la mia è un'esperienza indiretta è stata operata al seno circa 15 anni fa una mia carissima zia veramente ed è andato tutto bene cioè è stato asportato il seno la zia ha avuto una terapia farmacologica e basta per 5 anni e poi controlli ovviamente però ancora adesso è con noi ha 85 anni e sta bene bene quindi è un tumore che è stato scoperto anche in età abbastanza avanzata poi chiaramente dipende sempre dai tipi di tumore perché in alcuni casi non si fa nulla nella radioterapia ma si danno delle pasticche cosa sono queste pasticche professor Ricci è una terapia ormonale qui si può rispondere meglio di me il dottor Rossi che è proprio una loro caratteristica allora sentiamo il dottor Rossi nel momento in cui noi operiamo dopo ci sono le due vie da una parte la chemioterapia e da una parte l'ormonoterapia sentiamo dottor Rossi cosa sono questi farmaci allora diciamo non tutti chiaramente possono utilizzare questa strada no certo allora cominciamo col dire che circa l'80-85% dei tumori della mammella ha i recettori ormonali positivi che vuol dire che si giova della terapia ormonale la pasticca di cui parlavamo prima in queste pazienti la terapia ormonale è il cardine fondamentale per guarirle e curarle nel senso che la chemioterapia e eventuali nuovi farmaci biologici aggiungono efficacia alla terapia ormonale aumentando le probabilità di guarigione e di sopravvivenza ma la cura fondamentale rimane la terapia ormonale cioè la semplice pasticca di cui parlavano prima le signore di cui parlavamo prima in quel caso si prende a vita la pasticca fino a pochi anni fa lo standard era fare almeno 5 anni ma recentemente sono usciti vari studi fra cui anche uno studio condotto dalla professoressa Del Mastro quindi uno studio italiano che hanno dimostrato che in casi particolari in cui il paziente è più a rischio di recidiva la terapia ormonale può essere prolungata fino a 7 o anche fino a 10 anni proprio a dimostrare che la terapia ormonale in queste pazienti è fondamentale l'ultima signora ci vuole raccontare la sua storia le va? se no no siamo proprio massima democrazia è questo salotto non se la sente lasciamo stare è sicuramente un percorso di dolore prima dei saluti abbiamo fatto quasi le 11 sono le 10.54 professor Ricci allora ci ha portato tre quadri perché mi piace questa cosa che il professor Ricci quando va alle conferenze a spiegare se ne va all'estero lui prende questi aerei va a chiacchia porta dei quadri meravigliosi da esperto di arte attraverso l'arte racconta la chirurgia sulle donne che è una cosa bellissima che aiuta sicuramente i colleghi ma aiuta tanto anche le donne allora vediamo se Enzo Cannella regia stamattina ancora non ho salutato la mia squadra di lavoro perché con questo raffreddore e queste influenze mi sto trascinando perdi i colpi pure io Enzo Cannella grazie uno dei miei angeli custodi con Alex Zinato il regia Armando Iacovaccio oggi ho l'onore di averlo in studio e con Agostino Iannone poi abbiamo anche Elena Ravazzolo preziosissima alla reception e le nostre ragazze in amministrazione e la pagina web seguitissima grazie per tutte le visualizzazioni su YouTube con Federica Mari e Giulia Sciscione allora se Enzo Cannella è pronto vorrei far vedere questa meraviglia allora questo è un quadro di Raffaello ma perché stiamo guardando un quadro di Raffaello che ci facciamo noi parlando di tumori perché guardate questo quadro è stato dipinto da Raffaello e questa modella si chiamava Margherita Luti lui chiaramente era innamorato di questa ragazza è bellissima certo è un quadro che si definisce il cosiddetto quadro nunziale e rappresenta quello che potremmo definire l'amore casto e sensuale allo stesso tempo è considerato uno dei più bei busti mai dipinti nella storia dell'arte e questo proprio a simboleggiare un aspetto caratteristico che è quello che noi definiamo immagine corporea cioè quando noi operiamo dobbiamo tenere presente l'immagine corporea di una donna che cos'è l'immagine corporea è come io donna mi vedo voglio essere vista e penso che gli altri mi vedono ecco questo quadro rappresenta questo concetto il concetto dell'immagine corporea che va tenuto presente al chirurgo nel momento in cui si accinge ad operare un sede cioè di dare alla donna la sua fisicità la sua armonia estetico sensuale erotico di allattamento tutto quello che può rappresentare il fatto estetico della donna vediamo anche Klimt con l'età della donna questo è un altro quadro che troviamo in tante case perché è meraviglioso questo è un quadro bellissimo è all'Accademia d'Arte Moderna Roma e rappresenta invece l'altro aspetto della medaglia di cui abbiamo parlato stamattina cioè l'immagine corporea questa rappresenta invece l'identità corporea cioè il seno che accompagna il percorso di vita di una donna voi vedete la bambina la donna matura e la donna nella bellezza della sua senilità queste rappresentano tre fasi della vita e come il seno accompagna la vita della donna nelle proprie esperienze il primo il primo fidanzamento la maternità la sensualità eccetera ecco questo quadro rappresenta come il seno di una donna l'accompagna nel tutto nel tutto il suo percorso di vita togliere un seno a una donna anche a 90 anni rappresenta in parte distruggere il percorso che ha precedentemente costruito con l'ultimo quadro della Croix si parla un po' dei diritti delle donne lei ha detto che sono state le donne italiane a chiedere che venisse conservato il proprio seno le donne italiane direi anche le donne americane hanno molto spinto specialmente i gruppi di associazione femminile proprio per conservare il seno questo è un quadro di Eugène de la Croix è a Louvre di Parigi è un quadro molto attuale io direi perché vedete questa donna bellissima questo è un quadro molto evocativo rappresenta un'allegoria quella allegoria rappresenta questo quadro il senso della libertà se voi vedete il quadro di prima il quadro di prima di Klimt si chiama le tre età della vita le tre età della donna come donna o quale vita vita o quale donna che è un binomio inscindibile il quadro di Eugène de la Croix questa donna bellissima che alza la bandiera francese e quindi rappresenta i diritti della rivoluzione libertà fraternità egalità se noi uniamo questi due quadri vita donna libertà è in fondo lo slogan che stanno utilizzando le donne iraniane proprio per riaffermare i loro diritti e il diritto della donna qual è? un diritto alla salute ad avere delle cure adeguate ecco questi due quadri uniti possono rappresentare una rivoluzione moderna per i diritti delle donne ad essere curate adeguatamente quindi questo rappresentano queste iconografie un bellissimo messaggio dottoressa Bobo che in chiusura un messaggio per tutte le donne da parte sua mi piace tanto quello che Oriana Falacci diceva essere donna è così affascinante è un'avventura che ci richiede tanto coraggio e una sfida che non finisce mai ecco per una donna che ha avuto un tumore del seno non è facile però si può uscire da questo percorso a testa alta e con i progetti di una vita della vita di prima quindi si può fare grazie dottoressa Bobo che dottor Rossi l'università chiaramente sposa tutti questi progetti e pensieri un consiglio per le pazienti che arrivano anche da voi giù nel sud della provincia di Latina a lasciarsi guidare anche con fiducia sì perché come diceva il professor Ricci il percorso della breast unit è un percorso istituito ormai da anni collaudato funziona benissimo grazie al lavoro di tutti quanti i sanitari perché ricordiamoci che le terapie i farmaci sono importanti ma è fondamentale il lavoro di squadra il lavoro del gruppo di tutto il personale sanitario medico infermieristico perché la paziente ha bisogno di essere presa in carico e di sentirsi curata protetta e accudita perché tornando a quello che ho detto all'inizio stiamo parlando di pazienti fragili fondamentale poi il passaggio il messaggio che deve passare cioè che dal tumore alla mammella si può guarire il tumore si può curare e nel caso sfortunato in cui possa tornare la vita non è finita perché grazie ai nuovi farmaci che abbiamo a disposizione le pazienti hanno un'aspettativa di vita lunga molto lunga e possono condurre una vita assolutamente normale grazie dottor Rossi grazie alla dottoressa Bobo grazie al professor Ricci grazie alla breast unit alla dirigente la dottoressa Silvia Cavalli grazie agli infermieri che sono sempre presenti che accompagnano accolgono e fanno anche sorridere le pazienti grazie adesso prima di questa piccola pausa a caffè voglio fare gli auguri di compleanno oggi